Buongiorno a tutti, un breve commento al mercato questa mattina, mercato aperto anche oggi piuttosto tonico, ovviamente non c'è la frenesia di acquisti che abbiamo visto ieri, però continua la positività. Abbiamo, parto dal grafico del rendimento del decennale americano che continua a scambiare in prossimità dei minimi di periodo, ieri il movimento è stato importante, è stato molto chiaro e indica che il peggio è passato per quanto riguarda il processo di rialzo dei tassi da parte della Fed, ormai il mercato sconta che la Fed non procederà più ad alcun rialzo. Questo si è ovviamente riflesso anche sul rendimento del due anni che è passato in pochissimo tempo dal 5%, da poco sopra il 5% al 4,84%. Oggi la performance settoriale vede alcuni acquisti sulle basic resources che fanno circa un più 1%, ma poi c'è poc'altro, nel senso che non ci sono altri acquisti importanti, i settori sono poco mossi. Si mantiene comunque nel mercato una positività, io penso che l'Eurostox possa salire ancora in giornata e continuerà probabilmente il processo di accumulazione. Quindi al momento quota 4.318 e 4.319 potremmo vederlo salire ulteriormente nei prossimi giorni, guardiamo un grafico con un orizzonte temporale differente, ecco probabilmente l'obiettivo è in area 4.400. Quello che mi immagino è vedere un Eurostox tornare in area 4.440, 4.400, 4.440 e poi ristornare prima della riunione della Fed di dicembre in area, in quest'area qua. Nell'area diciamo post dato su CPI, per poi probabilmente chiudere l'anno intorno ai massimi. Chi non ha comprato probabilmente continuerà a comprare, chi ha comprato non vende. Ormai i giochi per il 2023 sono fatti e quindi la mia view è che vedremo una prosecuzione di questo rialzo. Quindi per quanto riguarda la strategia di oggi è quella di continuare a comprare, abbiamo comprato ieri nel canale Telegram a pagamento, l'ho detto in modo molto chiaro, qua si sale comprare e sostanzialmente proseguirà questo rialzo. Proseguirà questo rialzo che quindi va cavalcato, va cavalcato comprando e continuando a complicchiare in modo tale da beneficiare di un ulteriore upside.